Lo sguardo incantato e fanciullesco delle richiestissime ginnaste della società La Rosa di Brindisi ha illuminato l'appuntamento prenatalizio tra la regione Puglia e l'eccellenza dello sport pugliese. Un appuntamento che si rinnova da quattro anni e nel quale l'assessorato regionale concede un contributo economico alle associazioni dilettantistiche pugliesi che militano in tornei nazionali. E le giovani brindisine che partecipano al campionato a squadre di A1 e agli assoluti di categoria di ginnastica artistica rappresentano una novità insieme al basket in carrozzina di Taranto, in un panorama locale dominato dalle palavoliste di Castellana Grotta e Taranto, dalla pallamano di Fasano e Conversano, dall'hockey su pista di Giovinazzo e Molfetta e dai funamboli, anche loro Molfettesi, del tennis tavolo. C'è un'altra novità e riguarda l'assegno consegnato ben più sostanzioso dell'anno scorso, grazie al contributo dell'assessorato al turismo. 310 mila euro complessivi per nove società che sulle proprie divise da gioco porteranno in giro per l'Italia lo slogan Puglia per tutte le stagioni. Questo gesto sta sostanzialmente scommettendo sulle potenzialità promozionali di marketing dello sport. Stiamo affidando ai nostri migliori atleti il compito anche di promuovere la nostra regione, la sua bellezza, il suo paesaggio, i suoi centri storici, le sue potenzialità turistiche. Io penso che altrettante potenzialità lo sport le abbia anche nei confronti degli operatori economici privati, gli imprenditori, gli aziende. Secondo me devono riscoprire il valore di marketing dello sport. Il coinvolgimento dell'assessorato al turismo non è stato né sporadico né casuale, avendo indicato nelle scorse settimane un atleta di caratura planetaria, la tennista blindisina Flavia Pennetta, come testimonial della Puglia turistica in Italia e nel mondo. Il valore è etico dello sport ma ha anche proprio un valore utilitaristico, cioè l'immagine della Puglia veicolata attraverso equipaggi sportivi. Quindi per me come assessore al turismo penso che sia l'ideale in questo momento, anche perché una Puglia ha 365 giorni l'anno, che può essere non solo luglio-agosto, anzi soprattutto nell'altro periodo, una Puglia che è un turismo diverso.